La signora Perrotta adesso ci fa una presentazione amplia di questa meravigliosa orchestra Olimpia. Posso fare direttrice? Direttrice, direttrice. La signora direttrice, sempre Perrotta resta però, ci presenta l'orchestra Olimpia. Va bene. Prego. Un tema di attualità in questi giorni è quello che riguarda la conduzione di Paolo Bonolis per la cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale italiana della cultura, e diciamo delle sue gag che ha fatto con la direttrice dell'orchestra Olimpia, Francesca Perrotta. Alcune sue affermazioni non sono passate inosservate in questi giorni e se ne sta parlando. Sì, devo dire che finire alla ribalta della cronaca nazionale non tanto perché siamo capitale italiana della cultura, ma proprio per le battute, per i cliché, per, diciamo, qualche parola di troppo che Paolo Bonolis ha così elargito durante la sua conduzione sul palco della verità e filico-aliena non fa ben sperare come anno italiano della cultura. Devo dire, io ero tra i presenti per cui anche tutte le polemiche che ci sono in questo momento sono profondamente fondate perché davvero si è preso un po' troppe libertà nei confronti della direttrice d'orchestra, ma anche nei confronti di tutte le orchestrali che erano lì per un motivo ben preciso, sicuramente faceva piacere vedere delle belle donne, ma erano lì per il loro ruolo, perché professioniste, perché musiciste con decenni di studi alle spalle e devo dire che ha lasciato tutti un po' perplessi questo atteggiamento da parte del conduttore, anche quasi a voler screditare la professionalità che c'era dietro quelle donne, dietro quei volti, dietro delle persone che erano lì per dare un contributo culturale. Io non sono mai stata incline anche alle battaglie linguistiche per declinare al femminile un termine piuttosto che un altro, ma qui non si tratta di piccole differenze linguistiche, qui si tratta di differenze culturali, di capire da che parte vogliamo andare. Nel 2024 io credo che Pesaro abbia dato anche prova di sé. Pensate, abbiamo il prefetto donna, il capo del tribunale è una donna, il procuratore capo del tribunale è una donna, la presidente degli industriali è una donna, ci hanno comunicato che a partire dal primo di febbraio anche il questore sarà donna. In una città che è già avanti con il cambiamento, rimanere ancorati ancora a questi cliché davvero strumentali e di basso livello non fa bene a nessuno. Io credo che si sia fatta una scelta, scegliere di avere Paolo Bonolis su quel palco nel giorno più importante per Pesaro, come capitale italiana della cultura, dinnanzi al presidente della Repubblica, sia stata una scelta sbagliata. Potevamo farne un'altra, potevamo scegliere un conduttore senz'altro in grado di veicolare quella mattinata, con i tanti contributi che ci sono stati, ma di farlo senza scadere in queste piccole bassezze. Si è privilegiato un po' la popolarità del conduttore, che sicuramente ha giocato un ruolo importante. forse è venuta meno un'attenzione, da un punto di vista proprio culturale, al ruolo della donna negli anni in cui viviamo noi. E questa è l'orchestra. Ah, bello! Beh, io non conosco queste cose, dico complessi. Tutte molto... Serie. Tranne la signorina lì, molto sexy, per là in fondo. Ah, sì? Sì, tutta... Che suona lei? È una percussionista. È una percussionista. Ci percuote l'anima. Oggi suona il triangolo. Eh? Oggi suona il triangolo. Oggi suona il triangolo. Però le percussioni... Ah, fai anche Renato Zero. Che meraviglia! Bene, bene. Ci siamo quasi. Sì, ok. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Che meraviglia! Grazie.